musica 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 big tits nice ass madafaka comunque siamo a tutti gente sono a casa 90 sono qui con alex stiamo continuando dead island perchè stavi saltando sottotitoli stiamo saltando sulla testona c'è sta male curiamolo you came to the wrong neighborhood dai ragazzi non si perde tempo ahio a fare la missione cosa non si perde tempo questo è il bello si è il bello però questo è classico oh pò non mi calci in culo comunque questa è classificata come missione difficile per poi occhio ok questa cosa non sia allora tristezza se devo ancora ammettere vabbè lo faccio livello a ho provato to the wrong neighborhood stavo usando i pugni per sbaglio ho preso a cefone mi ricordo come si attiva la furia qua c'è un ramo rovinato se lo vuoi io sono pieno le presi tutti i primi ma c'è una tizia vieni che sta dando colpi al ragazzi io ho avuto c'è qualcuno fatemi entrare mi sto cagando a casa per me ho appunto mappa da baseball debole e se apriamo questo ovviamente c'è lo zombie dentro un po' ora sono già occupato e ti diverti assoluto e così impari a missione veloce così impari ah lì c'è questa casa fa da aprirla di giù ah l'è già aperta cosa c'era dentro un vibratore bello me lo dai dai missione nenni ora ti vedete che il panorama perché veramente ho un panorama tutto a scatti che si tratta di fronte premia per calciare se non lo diceva ragazzi stiamo andando a 2 fps 2 ora come è stato corretto acqua calcio al volo buttare no io sono la mani anche io agliaiaia se non è un po' sottovalutato stavolta alzati cos'è che sto impugnando un ramo ok tiè via dietro aspettate aspettate farmi il culo che sto piccando sto provando ma questo c'è una accetta ahia mi ha fatto malissimo tiè mi chiamano male che questo è forte con le armi dal lancio bello l'eshh mi chiamano mi chiamano ti chiamano lleva ma e come ricca compagno erano incazzati neri questi ragazzi mentre voi seguite la storia vi offendete se mi mangio un Gregor's aumento del livello, aspetta a volte però li devo mettere, come che si mettono? premi e vai sulla vita vieni qua dentro però mentre io mi bevo qualcosa, ok bevite anche tu qualcosa se devi riprendere vita, robe varie seconda, concedimi si confermo di voler acquistare questa abilità tieni premuto Z però qui è la furia, ok ricorda molto ah Z ok, mentre ho preso una prova gli armi da impatto sono più efficienti ed efficaci ok, scelgo anche questo oh e qua siamo arrivati al primo coso per farci per farci le cose mi devi anche illuminare sulla questione potenzia, modifica, non c'è la che crea progetto mazzacchio data, mazzacchio da baseball che ho di per due mi sa, che no no ramo ramo ah può fare equipaggiarli qui, ma come si trascinava? devo trascinare? che cosa devi trascinare? ha un sistema di equipaggiamento al shan? cos'è sta roba che c'è qua sopra? oh un coltello, questo lo lancio all'ortè prenditelo, se lo vuoi prenditelo oh no, ho lanciato una roba al frattempo che tutti e mi mangio un cracker sentite come il mastico bene io faccio la mappa che adatta questo fa, dura di mano, questo dura di più quindi direi di mettere questo si ripariamo, manganello, coltello da immersione direi di ripararlo, si nella mente c'è Avira che mi sta aggiornando quindi va ancora più a scatti il gioco grazie Avira per il tuo aggiornamento inutile e poi vabbè il potenziamento lo faccio dopo va, andiamo ci siamo salvaggiati? no al momento no allora andiamo via io odio i tutti questa è viva ancora non so perché li sto mangiando prefisco il cracker small money ah che cazzo è che ha urlando qua c'è un tizio pieno di mosche non si vedono più le mosche però c'erano e basta attenzione porca miseria ma che cazzo sta facendo? ma questo corre si attento ma ti pare? cosa sono questi corridori? perché non muori? perché gli altri che cos'erano? lo contagio camminatrici facciamo il castiglio di sabbia allora vediamo poi io attivo la furia premendo Z figo c'è un coltellino e sparo coltellini a merda pof un bello mi piace però quindi andiamo su questo aspetta che c'era un solo infetto ok fancù dove stiamo? figo mi piace anche se non l'ho ucciso ma muori ho l'ho fatto cadere in acqua che stasso affogano mi sento solo danni puoi fare danni ma io mi devo dare una mano qui ci deve essere roba però ce ne sono tipo una decina non ci mi sa che non c'era niente a parte che ne abbiamo anche dietro io c'è la risa più enorme che tu abbia mai visto attiva la furienza a qualsiasi difficoltà ahia non ho più ah no dietro no ok non posso attivarla perché c'è ancora il giallo un vuoto oh signore prego oddio ci stanno c'è neanche giù in acqua te l'ho detto mandali via a calci direttamente poi li colpisci li dà il copo di grazia ok uno l'ho buttato giù oh ti sta andando ti do uno schiaffone con la suola della mia scarpa devo cambiare arma a parte che c'è una moto volendo posso sparare quella questa le ha dato un calcio e l'ho distrutta ok aumento di livello premi u per utilizzarli boh tanto non gli piaceva che cacchio è ho fatto una cinta non ne dà di cosa però qua c'è una cosa vai giù ok ragazzi pensavate fossimo morti invece ok questo è morto vediamo un po qua c'è una cassa che non è utilizzabile qua cata identità ok ruttando mangiando un maiale cibo in scatola ho preso apriamo qua una bevanda energetica sto prendendo acqua perché mi pare serva per una missione quindi se vedi acqua prendila ti giro tu grazie qua c'è un altro zombie appaiono gli zombie non che non so zio dove stai andando sono arrivato qui che c'è una cesta segreta ammazza da baseball standard eccola qui prendila tu va se non so se questa cosa si apre forse no mentre metti i punti abilità va sei a livello 4 livello si livello si sono sei a livello si stavo correndo stavo correndo allora visto che sono ancora a livello 3 per esprimere il mio disappunto mi mangio un altro crack ok io vado su sopravvivenza così i danni aumentano quando sei ubriaco che cazzo aumenta il numero di slot dell'inventario perché così posso portare più meri che ti si asservano ok vai che andiamo dai ci stiamo dilungando troppo qua in mezzo è qua vicino se non mi sbaglio dovevamo salire lì sopra quindi attenzione questa è la musica da corsa ne conto 5 bro uccidiamole tutti con il nostro suole oddio vai via questa è una macchina fotografica attaccata al collo deve essere lo zombie fotografo dovrebbe essere sì questo era il fotografo io nemmetri sto raccogliendo i soldini vado finito il problema ah mi sono cagato allora usa un lettore di tessere per entrare lì in fondo evviva allora questa ci serve quindi ok il bombolaio abbiamo anche abbiamo la bombola che ci serve tiè perchè perchè mi chiede fatto malissimo ok questa è morta no dovevi bloccare la bombola occhiano no dopo quella dopo dopo no guarda che se parla e guarda che si è ripreso il coltello del ripreso si era bellissimo attenta alla bombola non lo so serve dopo no no ma comunque se parli dal boss la bombola c'era già si ancora vivo ci muori se hai poca energia c'è frutta bevanda energetica boh mi bevo una bevanda energetica e via dovrei essere a posto vai io apro qui ok ok pronti vedi ho fatto un casino lì in mezzo vediamo un po cosa c'è c'è una molotov fermo addirittura non è una molotov alcol eeeh si ho piaccato non capisco più niente e te che si sta vicino gentile e con la molotov era l'altra eeeh io ti colpisco aspetta prima di aprire il garage devi darmi un attimo perchè mi devo equipaggiare ho fatto anche io anche io dovrei anche perchè mi sto uccidendo a cazzotti per adesso questa arma fa schifo stai giù bella patatone ti slapo il culetto bella che bella vieni con bella che se sei una zombie infiere di nessuno solo va bene l'attesa di altri giocatori ok allora io un attimino mi equipaggio allora aspetta un po' la butto qua in mezzo la butto era qua che usciva o più o più avanti ah no esce dal eh ma non mi ricordo da vabbè qua me vaffanculo bombola di merda dai lascia stare tranquillo che poi sembra normalissimo invece gigantesco si infatti sembra uno normale invece un palestrato tipo un tank non lo so no il tank è più avanti questo è un palestrato e basta con charger non lo so però il più lento c'è un casino praticamente è totalmente impaurito che stavo mangiando un crackers oddio perchè sono così vicino si avvicina via boom boomerang no che figo attivando la cosa boomerang mi ritorna l'arma indietro la tira e la riprende la riprende di nuovo in mano che figo micidiale ok così mi piace già di più che questi sono tutti morti mi sembra quindi dobbiamo liberare la parte di su se non è no 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 prima o qua a destra vieni ah ok aspetta che non ho più armi disponibili praticamente si mi lasci da ah hai detto aspetta e tu sei entrato e ci sono i contagiati corrono come se non ci fosse un domani oddio l'ho mancato l'ho mancato no mi fa piegare però certe volte quando vi do un calcio e si li sbatto a lui c'è una torcia in questo gioco però adesso c'è una torcia in questo gioco però adesso c'è una torcia in questo gioco però adesso te lo dice nel primo livello la c la t il di tavolino ah vabbè questi ragazzi questa sera che ho preso un attimo il coltello non mi ricordo come si equipaggiano le cose coltello da emersione questi sono vivissimi oddio sono vivissimi aspetta un attimo ok ho detto di stare giù ok 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 ritaglio 3 del bano i herald penso di aver fatto una specie di missione secondaria no eh sono delle prove le trovo via via ma dove dobbiamo andare adesso dobbiamo salire su no dobbiamo fare fuori tutti i teschi praticamente capito dobbiamo liberare la la zona e perché io è l'ultimo penso sia su nelle scale di prima dove vorrei andare dentro il bagno no non è dentro il bagno ok vediamo un po dobbiamo aprire qui ah no devo tenere premuto bov aprito 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 tutto stai attento perchè qua si nascondono ok ok vai di brutto di brutto vai ho slapaletti tutto il culo vai si attento a fianco mi prende al fianco schifo vai via questa è viva mi sa ho completato la socializzazione era viva era viva no non era viva l'ho fatta sull'allenare era un povero cavallo è un lifeguard questo è vivo come pochi proprio è vivo pretendo di farmi spaventare secondo lui tiè 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 ok dobbiamo finito giusto? si contatta sinemone usato la radio vai perfetto eh attenzione ragazzi ho sprecato solo due remi per adesso domanda energetica mia anche perchè a me non me le fa prendere perchè? non lo so non lo so comunque lifeguard abbiamo preso il nostro primo avamposto eh praticamente ci siamo fatti un quartier generale una roba del genere nel mentre stanno arrivando tutti i strafighi non poteva darle a noi la macchina no eh infatti salve signorina bionda nel mentre ottimo fondoschiena ottimo davanzale no fondoschiena ho detto davanzale eh ok ciao sinamore 6 centoppia mannaglia fatta in casa grazie oh la voglio anche per fanculo eh nel prossimo episodio direi ragazzi che andiamo avanti con la storia tutto il resto quindi gente direi che finiamo con la puntata vedete un like se il video vi è likeato ah viaggio veloce bello eh non lo so ci vediamo presto di nuovo qua su dead island sempre su dead island tra la sabbia e il laggo del tropici ok da ciao a tutti ciao stranzi ciao ciao